Una serata di grande musica al Palamaggetti di Roseto per l'unica tappa abruzzese del concerto di Francesco Guccini, assente ormai dai palcoscenici di Abruzzo da 13 anni e anche per questo si è registrato il tutto esaurito. Il suo ultimo album risale al 2004, ma il suo fascino di cantautore e cantastorie è rimasto immutato ed è legato alle mitiche canzoni degli anni 70, così il suo pubblico è sempre lì che lo aspetta con grande desiderio in ogni appuntamento. Oltre che dall'Abruzzo tantissimi fan giunti da Lazio, Toscana e Campagna, sul palco Guccini accompagnato dallo storico gruppo di sempre, in oltre 40 anni di carriera vanta la realizzazione di 21LP in cui ha raccontato, trasformandola in musica, la storia del nostro paese e i principali cambiamenti politici e sociali. In due ore di grande musica tornati alla luce vecchi brani tratti dai suoi album, uno spettacolo come sempre dove non esiste alcun effetto scenico, ma l'unica cosa che conta è il rapporto che si stabilisce fra pubblico ed interprete. Grazie. 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 Grazie.